In questa mappa sembra che la media dei vari valori della pressione atmosferica sia inferiore a 1013 millibar, che invece dovrebbe essere il valore medio a livello del mare. Forse il motivo è proprio che i vari luoghi non si trovano a livello del mare, ma in questa carta si tiene in considerazione anche già il fatto che molte località si trovano ad una certa quota, cioè non a livello del mare, e questo abbassa il valore della pressione atmosferica. Infatti la pressione atmosferica diminuisce con la quota del luogo, di quanto? Di circa un millibar ogni 8 metri di quota, almeno così è riportato in internet. Ad esempio Tolentino è 220 metri di quota sul livello del mare, la pressione atmosferica è 28 millibar in meno, o 28 etto pascale che è lo stesso, rispetto a Civitanova in media. Quindi se la media, la pressione media annua è di 1013 millibar, Tulin D è 985 millibar.